Quando ho visitato la Toscana lo scorso scenaio, ho girato per molti polti e provato molti piatti tipici. Carpaggio a Venezia, pappardelli ai funghi porcini a Firenze. Un giorno ero a Bologna e mi sono seduto in un ristorante. Chiedo al cameriere cosa mi raccomandava e mi dice, ha provato la nostra mortadella. Gli ho detto di no e che mi sarebbe piaciuto farlo. Subito dopo si avvicina con una specie di impasto rosa, stranissimo, su una ruschetta. Gli dico, mi scusi signore, credo che ha confuso la mortadella con qualcosa e altro. Appoggia il piatto sul tavolo, mi guarda e mi fa, signore, benvenuto a Bologna. E così che ho conosciuto la spuma di mortadella. Gli dico, mi scusi signore, benvenuto a Bologna. 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 Benvenuto a Bologna.